Benvenuti a tutti ragazzi, io sono una leggera, un piccolo macchinetto, voglio fare ciò che è uscito da macchinetto, e questo macchinetto è il pensiero, legge veramente, ecco, taglio il basso acqua, ecco qua, sto leggendo il pensiero, ecco io ieri ho detto famigli, adesso pensiamo famigli, mi chiamo, mi sono messo la leggera, scoperto adesso, no, a 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